Ciao a tutti, mi chiamo Pedrazzini Michele e sono un tifoto di Sebastian. In questi ultimi tempi ci siamo accorti di quanto è importante avere un posto di ritrovo, un punto di riferimento dove praticare il nostro sport e per questo sostengo il progetto 685 per la creazione di una pista in Valtellina. Ciao a tutti!